Ben ritrovati dalla redazione di Froles Multimedia, in studio Cesare Martignone. In A1 in direzione Bologna, possibili rallentamenti per lavori con corsie di destra chiuse tra Firenze in Plunetta e Firenze Scandici. Chiuso lo svincolo di Firenze in Plunetta in uscita provenendo da Roma e in entrata verso Bologna. Tra Aglio e Calenzano in direzione Roma, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Come anche tra il BV1 variante Evadia in direzione Roma. Tra Incisa Reggello e Firenze in Plunetta in direzione Bologna, coda per traffico intenso. Traffico rallentato con coda a tratti tra Firenze Scandici e l'allacciamento A1 variante di Valico in direzione Bologna. Infibili per lavori tra Ginesta Fiorentina e Lastra Signa, possibili rallentamenti con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. Per la cantieristica Firenze si informa che da domani in via del Varlungo partono lavori di consolidamento che riguarderanno diverse vie della zona. Questo è un servizio realizzato in collaborazione con la regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!